Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Riva Monte con il sindaco Giovanni Deon. Buonasera. Buongiorno. Questo è un periodo in cui le scadenze del PNRR fanno galoppare i comuni perché bisogna presentare i progetti, bisogna avere tutte le carte in regola e le scadenze sono sempre molto ristrette. Immagino che abbiate lo stesso, siate proprio in questa condizione. Hai ragione, sì. Noi siamo nella stessa stregua ovviamente di tutti gli altri comuni, i piccoli comuni in particolar modo. Noi avevamo questa opportunità di poterci candidare sul bando dei piccoli borghi, la misura A, la misura B, scusa. E abbiamo lavorato per tentare anche noi, come tanti altri nostri comuni e la nostra provincia, di partecipare. Abbiamo presentato un progetto, un'ipotesi progettuale anche interessante. Non avevamo grandi spazi, noi abbiamo la fortuna o la sfortuna, ma comunque la fortuna di avere il sito minerario di Vallimperina che ha bisogno di ritocchi finali. Ecco, gli interventi sono stati fatti in questi anni anche importanti sotto aspetto economico e avevamo pensato oltre che a presentare un progetto sulla valorizzazione del sito e la promozione dello stesso e anche fare un intervento mirato anche alla gente meno fortunata di noi. Insomma, abbiamo ipotizzato un intervento anche per i non vedenti e questa progettualità che ha comunque 14 piccoli progetti, perché il bando prevedeva un minimo di 10. Ci siamo tenuti un po' abbondanti, anche perché non si sa mai, se ne sbagliamo qualcuno, abbiamo sempre l'opportunità di essere all'interno del bando stesso. Perché non è facile, abbiamo avuto un mese, oltre un mese, di impegno non indifferente da parte nostra e lo abbiamo presentato. Adesso stiamo aspettando, ovviamente, il Ministero che dovrà dire ok, siete in linea con quello che è il bando e dopo in base al punteggio a graduatoria vediamo se siamo stati fortunati, ma neanche nel senso della fortuna in sé, tanto che abbiamo presentato un progetto articolato, insomma, e credo che sia un progetto che possa avere anche delle chance importanti. E poi ci sono anche altre opportunità di finanziamento, ci sono quelle del Fondo Comuni Confinanti, per esempio. Sì, ecco, qui è un lavoro, non dico lungo, ma impegnativo per far sì che tutte le aspettative di ogni piccolo comune possano essere soddisfatte, è un lavoro che credo vada in porto proprio entro la fine di questo mese per approvare le schede nella vallata nostra e poi a livello provinciale. È un lavoro importante, anche impegnativo su certi aspetti, perché ognuno di noi ha le proprie esigenze. Piccoli comuni in montagna, con un respiro importante in termini finanziari, potrebbe essere anche la soluzione in parte dei problemi che noi abbiamo, noi abbiamo mirato su una particolare progettualità di soddisfare le esigenze di questo territorio, perché non abbiamo strutture, abbiamo poca cosa e abbiamo bisogno che la gente possa arrivare ma che si fermi quella che è almeno, no? Perciò i giovani, i bambini, abbiamo tentato di portare avanti questa progettualità su una struttura polivalente all'interno della cittadina sport, chiamarla così, è un campo di calcio, infine in campo da tennis. Però stiamo completando i lavori del campo di calcio che è una struttura anche interessante per questi ragazzi che hanno questo tipo di passione, lo stiamo facendo proprio in questi giorni qua, spero che proprio nel mese di maggio sia completato il lavoro per poi farlo riposare un po' di tempo per metterlo a disposizione di tutte queste opportunità di calcio, dai chiamole così, non abbiamo altre opportunità all'interno di questa struttura. Però comunque su quello ci siamo, sul resto vediamo poi l'accordo tra tutti, credo si possa raggiungere anche perché abbiamo la fortuna, sì magari qualche tono un po' più alto in certi momenti, ma tutto sommato sono tutti sindaci che sanno quello che vogliono, perciò hanno la testa sulle spalle, perciò ci saremo anche noi questa volta. Ecco, diciamo c'è la partita del Fondo Comuni Confinanti, c'è anche la partita delle aree interne, insomma. Ecco, sai sulle aree interne, noi visto siamo uno delle quattro aree del Veneto, siamo il Comelico, l'Alto Piano di Aseago e il Polesine, perciò la Gordino ha questa opportunità adesso, ha avuto altre opportunità, negli anni passati sono stati messi a bando i finanziamenti, questi finanziamenti invece erano ed sono stati mirati sulla viabilità provinciale e regionale, perciò ogni comune ha fatto l'analisi delle cose che dovevano essere fatte e noi abbiamo puntato su un intervento importante per la regionale che sale a Rivamonte perché abbiamo avuto in questi anni l'opportunità di capire e di vedere, avevamo già presentato l'ipotesi progettuale di intervento corale nel 2017, avevamo tentato anche sul bando della regione Veneto nel 2018 sulla 39, che è una legge che finanzia appunto gli interventi di messa in sicurezza della viabilità, non è più stata finanziata e allora adesso è venuta questa opportunità delle aree interne, abbiamo avuto il consenso di tutti i comuni, cioè ogni comune nelle annualità dal 2021 al 2026 avevano l'opportunità di presentare una propria proposta, così è stato fatto, è stato raggiunto un accordo con tutti i sindaci a Gordini, adesso sarebbe in piedi a 39, ma la 39 finanzia al 70%, di conseguenza per i piccoli comuni è sempre questo problema del cofinanziamento perché entrate, sono quelle che sono, sono ridotte purtroppo e questa invece è stata un'opportunità importante perché viene finanziata al 100%, ma sono tantissimi i soldi, ma sai, il comune come Rivamonte, 174 mila euro, sono tanti, cioè non è il comune di Belluno, che sono tanti per il comune, per Rivamonte sì, e così risolviamo uno degli ultimi accessi pericolosi alla regionale di una strada comunale, che è la strada che porta a una frazione che si chiama Ischiena, perciò anche questo problemino lo abbiamo, è un problema importante che si trascinava da decenni, gli altri interventi che avevamo programmato all'inizio sono stati realizzati e perciò questo credo che nell'anno in corso potremmo avere, appena abbiamo la comunicazione ufficiale a parte del Ministero, perciò credo che potremmo dare inizio alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento stesso. Per voi è molto importante l'accesso dalla SP3 e lì insomma qualche problema c'è stato? Sì, oltretutto qua avevamo avuto purtroppo quel cedimento di una parte della strada che arriva a Rivamonte, al primo chilometro, che la provincia con Veneto Strade adesso stanno realizzando un intervento, in parte lo hanno già anche eseguito, dovrebbero iniziare a breve l'intervento quello più corposo, perché parliamo di un intervento da oltre un milione di euro, perciò non è proprio una cosa da poco e con questo intervento dovremo anche risolvere il problema della viabilità principale, quella che collega poi Ponte Alto per capire e che prosegue verso Gosaldo e Primiero. Perciò questo è un intervento di messa in sicurezza della viabilità regionale che a noi sta molto a cuore, Veneto Strade si è impegnato e ha fatto credo, a mio modesto parere, un buon lavoro di progettazione, di realizzazione e adesso continuano con la parte, il progettone per capire, ecco così è, sta andando, dai, bene. Negli ultimi anni ci sono state le emergenze, una dietro l'altra, c'è stata VAIA, c'è stato il Covid e insomma i sindaci dei nostri comuni, in particolar modo voglio dire quelli più piccoli, hanno avuto delle sollecitazioni molto grandi, no? Cioè a livello amministrativo si è abbastanza sotto pressione. Lei sta arrivando alla fine del mandato, ha già iniziato a pensare al futuro, ha già deciso? È una buona domanda Andrea, sai. Allora, noi siamo partiti con tanto entusiasmo, ovviamente come tutti all'inizio c'è l'entusiasmo, ci siamo trovati dopo un anno con VAIA, un massacro per tutti, eh, non solo per Rivamonte ma per tanti comuni, anche qualche comuno ovviamente molto peggio, qualcuno meno, però abbiamo avuto un impegno a noi indifferente anche perché, vedi Andrea, non è che uno dice è arrivata VAIA, hanno stanziato i finanziamenti, questi rischiati li portano. No, no, non succede mica così. Uno deve analizzare, stimare i costi, presentare le carte nei tempi dovuti e non sgarare i tempi, perché se uno non li presenta nei tempi giusti, evidentemente non entra nel finanziamento. Perciò è stato impegnativo, non solo per noi amministratori ma anche per i nostri uffici in particolar modo, perché quelli dovevano fare il lavoro manuale e importante in virtù delle scelte che noi dovevamo fare. questo è stato il 18, ma il 19 è un'altra alluvione Andrea, nel 20 è un'altra, dopo abbiamo avuto il massacro del Covid che fosse peggio di tutto perché ha bloccato non solo noi ma il paese intero, no? Cioè il mondo tutto sommato. Il problema è delicato perché siamo ancora in piedi, perciò, sai, arrivare al 2022 con due anni di questa situazione, con le imprese che un anno e mezzo fa si sono fermate, abbiamo fermato il paese, il paese intero, perciò si è accumulato inevitabilmente di ritardi, ognuno deve recuperare il tempo perduto e il tempo perduto non si recupera. Purtroppo così è, la vita è questa e di conseguenza siamo un po' tutti in affano, non dico solo il comune di Rivamonte, ma credo che tutti i nostri comuni sono un po' col fiato corto. Diciamo che in questi giorni qua, fortunatamente, stanno aprendo tre, quattro cantieri importanti per noi, roba da qualche centinaia, mi ero l'uno, perché ci avevano garantito che aprile e maggio avrebbero iniziato, così stanno facendo. Speriamo di dare seguito, nell'arco dell'annata, se ci siamo noi o non ci siamo noi, il proseguimento e questi importanti lavori di sistemazione della viabilità e non, perciò credo che possa essere un buon lavoro che stanno facendo. Dopo sul problema invece, come mi domandavi il discorso della candidatura è un po' più delicato, noi in questi giorni andremo ad approvare il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione, quello che serve, poi speriamo di farcela anche con il consuntivo, sistemato questa partita qua per noi, ma per il futuro del nostro comune dovremo pensare bene, non è che non ci abbiamo pensato, ovviamente siamo a 15-20 giorni dalla presentazione delle liste, però siccome è impegnativo, è un impegno non indifferente per noi, per i consiglieri, per la giunta, per la struttura stessa di avere un'amministrazione efficace ed efficiente, questo dobbiamo pensare di sopra bene, perché poi ognuno di noi il tempo lo deve ritrovare per dedicarlo alla società, perciò finito questo passaggio degli addempimenti obbligatori, senza bilancio in comune fermo, allora dovremmo fermarci un attimo noi e dire adesso cosa facciamo? Punto di domani, vedremo, il futuro ci darà delle risposte, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, quindi ringraziamo il sindaco Deon per essere stato con noi. Grazie a voi tutti e buona giornata. E quindi ci vediamo al prossimo approfondimento con i comuni della provincia. Buona serata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS